Amici e amiche di Player Inside, bentornati alle consuete news della settimana. Buona domenica a tutti. Signori, vi faccio presente, qualora ve la foste persa, che è uscita la nostra recensione completa e definitiva con tanto di voto, ma non spoiler, di Starfield. Nella quale trovate anche il sottoscritto impegnato in un ruolo recitativo di costume decisamente di alto livello. Comunque, se volete recuperarla, fatelo adesso, fatelo dopo, ma iniziamo con le news della settimana. Piccola aggiunta che sarebbe dovuta andare nell'intro, ma la facciamo adesso, vi ricordiamo che ci troverete al Palermo Comic Convention il 16 e il 17 settembre 2023, ovvero pensate un po' di quest'anno. Siateci amici palermitani e dei dintorni, che ne so, per esempio, di Aosta, perché ci si divertirà, ci si vedrà, ci si scambieranno baci, carezze, abbracci e poi basta, perché se no, forse, rischiamo pure la denuncia. Secondo sempre più insistenti e fastidiose, se vogliamo voci di corridoio, sembra che GTA 6 costerà al lancio 150 dollari, il che potrebbe tradursi in 150-160, addirittura euro. Questo perché i costi di sviluppo del gioco avrebbero superato i 2 miliardi di dollari. E questo rumor avvilente, se vogliamo, sarebbe rafforzato da un file presente nel Maxi Leak, che vi abbiamo riportato l'anno scorso su GTA 6, vi ricordate la build trafugata e pubblicata in rete, nel quale comunque ci sarebbe stata in una di queste cartelle anche una conversazione tra gli sviluppatori e i produttori di GTA 6, che sembrerebbero mettersi d'accordo proprio sul fatto di immettere sul mercato il gioco a un prezzo così alto. Ora, è chiaro che potrebbe trattarsi di una conversazione amichevole tra i due, che magari stavano scherzando, si scherza, si fa per scherzare, oppure no, anche perché Red Dead Redemption in versione porting per Switch e ancora più per PS4, che ha venduto tantissimo, soprattutto nel Regno Unito, se vogliamo essere onesti, ha dimostrato che Rockstar Games può fare sostanzialmente il gran c***o che gli pare. Quindi se dovesse mettere a 150 dollari GTA 6, voi lo comprereste comunque, confesso, lo comprerei comunque anch'io. Vedi quanto siamo tutti stronzi. Secondo rumor sempre più insistenti, questa settimana potrebbe tenersi il prossimo Nintendo Direct, e se così fosse ovviamente, lo seguiremo insieme a voi in live, chissà, magari annunceranno il prossimo hardware. Comunque, nonostante si tratti solo di un rumor, è intervenuto anche un leaker considerato molto attendibile, ovvero Pioro, che ha confermato che non solo ci sarà il Nintendo Direct, ma sarà anche l'occasione per il ritorno di F-Zero, la serie di guida Nintendo che non vede un nuovo capitolo da ormai molti anni. E se vi aspettate l'annuncio di un'espansione di Tears of the Kingdom, mettetevi il cuore in pace. Nintendo ha fatto sapere che non uscirà alcun DLC di Tears of the Kingdom. Nonostante il grandissimo successo del gioco, il team ritiene di aver fatto già il massimo con quel mondo, e sicuramente vuole andare avanti. Anche se Onuma non ha escluso che in futuro non si possa ritornare al mondo di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Magari con un vero e proprio sequel, anche se ha specificato, presenterà comunque un modo nuovo per giocare. E si ritorna a parlare di Nintendo Switch 2, e stando alle ultime voci di corridoio, si tratta di rumor e quindi vi invitiamo a prenderli con le pinze, sembra che ci sia da essere entusiasti. Ovvero 12 GB di RAM, in grado di sfruttare il DLSS 3.1 di Nvidia e con il Ray Tracing. Addirittura si vocifera riesca a far girare la demo di Matrix Awakens. Questo stando quindi alle ultime voci di corridoio, che vorrebbero peraltro Switch 2 presentato in gran segreto, e soltanto ad alcuni selezionatissimi sviluppatori, alla Gamescom 2023 a porte chiuse. Noi c'eravamo alla Gamescom 2023 e non abbiamo visto un c***o. Questa settimana, se non si fosse capito, è uscito Starfield, e ha monopolizzato l'attenzione di tutti e anche la nostra. Infatti trovate la nostra recensione su questo canale. Una delle critiche più insistenti rivolte al gioco, ed espressa anche da noi in recensione, riguarda l'assenza di veicoli da terra. I pianeti vanno infatti esplorati a piedi per forza. Todd Howard ha spiegato che questa è una precisa scelta di design. Infatti il team aveva valutato l'idea di inserire i veicoli, ma il game design sarebbe cambiato, perché con la lentezza della camminata si possono vivere più esperienze al ritmo voluto dagli autori. Con un veicolo avrebbero dovuto disperdere i punti di interesse a distanze maggiori per ottenere lo stesso effetto. Vabbè, ma tanto ci penseranno i modder a risolvere tutto, e a proposito di mod, Bethesda ha annunciato che il supporto ufficiale ai mod inizierà nel 2024 con un update apposito, e speriamo che questo includa anche le versioni console. Cioè la versione console, solo Xbox. E come previsto, il gioco è da un lato un successo che vanta più di 6 milioni di giocatori al lancio al primo giorno, superando qualsiasi altro gioco Bethesda, ma chiaramente non è da sottovalutare il fatto che sia sul Game Pass. Comunque lo stanno giocando in tantissimi, ma allo stesso tempo è stato bombardato di voti negativi su Metacritic dall'utenza, in cui ha un user score di 5,5. Vabbè, la solita storia, niente di nuovo, ci siamo passati mille volte. Red Dead Redemption 3 si ritorna a parlarne perché secondo un leaker sarebbe ufficialmente in sviluppo. Questo leaker, tale My Time to Shine Hello, sarebbe sicuro sia di un Red Dead Redemption 3 già in produzione, sia, come già detto nelle precedenti settimane, anche di un Hogwarts Legacy 2. Potrebbe essere un altro prequel addirittura precedente alle vicende della banda di Wanderlind. Potremmo giocare nei panni di un altro personaggio? Potrebbe essere una storia del tutto nuova? Tutte speculazioni che vi posso rispondere, neanche voi. Quindi che facciamo? Stiamo qua aspettando la risposta. Non arriverà. Siete tra quelli che si sono lamentati dell'aumento di prezzo del PlayStation Plus? E allora che cosa dovrebbero dire i turchi? In Turchia, infatti, il prezzo del Plus è aumentato in proporzione molto più che da noi, di ben il 600%. Ovviamente i giocatori turchi si stanno rivoltando, ma per quanto possano lamentarsi, il quadro generale per Sony è certamente positivo e da questa mossa, secondo gli analisti, potrà far crescere i suoi utili di circa 380 milioni di dollari. Skull & Bones va via anche un altro direttore creativo, ovvero Elisabeth Pellen. È il terzo direttore creativo ad abbandonare Ubisoft e il progetto Skull & Bones, che a quanto pare non avrebbe ancora una data. La gestazione più lunga della storia è per uno dei titoli meno attesi della storia. Forse, magari molti di voi lo attendono, non... Così, debotto e senza senso, Nintendo ha annunciato due nuovi modelli di Switch Lite a tema Animal Crossing New Horizons in uscita il 20 ottobre. Cioè, mi fate due modelli di Switch su Animal Crossing New Horizons e il gioco non lo aggiornate da anni? No, vabbè, vabbè, mi fate parlare, va? Udite, udite, il nuovo CEO di GameStop, Ryan Cohen, ha sostenuto che le console dovrebbero tutte avere, obbligatoriamente, tra mille virgolette, il lettore disco. È il CEO di GameStop. GameStop vende giochi in formato fisico. GameStop si era incazzata quando è stata presentata Xbox Series, minacciando addirittura Microsoft in alcuni negozi, di non volerla neanche vendere, perché giustamente poi non avrebbero venduto i giochi per quella stessa console. Quindi, è un po' come se io vi dicessi, sapete, Player Inside è il canale migliore del mondo. Chiaro che è una cazzata. O no? Cioè, non lo so. Cioè, magari sì. Però se lo dico io, è chiaro che sono di parte, no? Mostrato il personaggio di Nitara in Mortal Kombat 1 che è interpretata da Megan Fox, la quale si è detta felice di essere una vampira nel gioco. Nitara è dotata di ali e può volare da una parte all'altra dello schermo, cosa che Megan Fox non può fare. Non so perché l'ho detto, scusate. EFootball arriva l'aggiornamento 2024, disponibile per tutti gratuitamente. Ricordiamo che EFootball è diventato da qualche anno free to play, almeno per quanto riguarda il gioco base. E ci sono delle belle novità anche a livello di gameplay. Io stesso l'ho provato in versione PlayStation 5 e l'ho giocato in live con molti di voi. E nei prossimi giorni cercherò di farvi avere un video di riassunto di quella live sul secondo canale. A partire dal 14 settembre su Epic Games Store sarà completamente gratuito 9-1-1 Operator, una sorta di simulatore del 911 in cui bisogna gestire le richieste di soccorso. In questa prima metà di settembre sul servizio Game Pass sono già prodati Gris e Starfield. Dal 14 settembre arriverà Solar Ash e Lies of P il 19 settembre. Anche il catalogo Nintendo Switch Online si è aggiornato con l'aggiunta di Quest for Camelot per Game Boy Color, Downtown Neketsu March Super Awesome Field Day per NES, Joy McFight per NES e Kirby Star Stalker per Super NES. E adesso la sottorubrica delle news della settimana preferita da tutti, ma in particolare da chi ha appena fatto una recensione su Starfield. Questa era proprio mirata a me ed era pubblicità per la recensione di Starfield. Insomma, l'avete capito che è uscita quella recensione e che ci teniamo a farvela vedere. News arraffica. CD Projekt elogia Bethesda per Starfield con un artwork creato dall'italiana Martina Belli che ritrae Johnny Silverhand e Vasco. E siete dei malpensanti perché giustamente in molti avrete pensato è giusto ora che deve uscire il DLC, l'espansione per Cyberpunk, ma quando mai? Sono complimenti genuini, non esistono le cose fatte per opportunismo. È così, dai. In rete sono già presenti molte mod per Starfield, ma in particolare ce n'è una che sostituisce il logo di Bethesda con quella dei PlayStation Studios. E ce n'è anche una che sostituisce i tasti Xbox con quelli di PlayStation. Però quest'ultima ha un'utilità perché effettivamente c'è chi gioca su PC col DualSense di PS5, col DualShock di PS4. È per questo che l'hanno fatta. È per questo. Quella del logo PlayStation Studios è semplicemente una cazzata. E mentre l'ultima fatica di Bethesda ci mostra che è possibile accumulare patate all'interno della propria nave spaziale, Todd Howard, che amiamo tantissimo ma che ogni tanto dovrebbe imparare a starsi un po' zittino, ha dichiarato che se Starfield gira male sul PC è perché sciavete il computer vecchio e vi dovete comprare quello nuovo. Ha detto praticamente questo. Dovete aggiornare l'hardware. Eh, una 40-90 non basta. Poveri pezzenti! Un'altra mod simpatica, forse inquietante in realtà, è quella che permette di mostrare sempre la facciazza di Phil Spencer quando si accende la torcia di qualsiasi arma. Un santo cielo! E anche per questa settimana in particolare, questa settimana senza alcun particolare motivo, vi ringraziamo per essere stati con noi e per averci accordato la vostra graditissima preferenza. Vi rimandiamo all'appuntamento con Contro News alle 21 domani, ovvero lunedì, come ogni lunedì sera, e ciao! Esatto, io a certe volte sto fermo fino a 5-10 minuti, così, prima di chiudere. Ma più che altro perché c'ho i pensieri, non perché ci sia qualcosa, perché poi tanto la taglio questa parte. Sto così. È un ottimo momento. Una pausa di riflessione mi aiuta a riflettere su tutto quanto il mondo che mi circonda e tutte queste... Eh, cazzate! Fatelo! Prendete una telecamera e riflettete pure voi, così. Potete farlo anche senza telecamera, potete non farlo. Basta.